Ben trovati, ho sempre ripetuto in pubblico, in privato a livelli locali, a livelli nazionali che la politica si fa con i numeri, ossia chi ambisce ad occupare un ruolo o una postazione deve prima prendere i voti. Una volta conseguiti questi, una volta essere stati magari anche eletti, bisogna trovare una sintesi se non si ha una maggioranza certa, una maggioranza sicura, altrimenti bisogna cercare un accordo. Questo aspetto credo che in Italia in pochi l'abbiamo capito, perché tutti pensano sempre di essere i migliori, i più forti, coloro che sono leader, che riescono ad aggregare, coloro che possono unicamente loro dare una risposta al Paese e siamo arrivati in queste condizioni, siamo giunti a questo punto. Allora, fermo restando la critica che in molti rivolgono a Silvio Berlusconi sulla sua anomalia e quindi sulla sua presenza in politica, di fatto ieri il Presidente della Repubblica ha detto ciò che dal giorno dopo le elezioni politiche del 25 febbraio sta cercando di ribadire lo stesso Berlusconi, però il discorso di Napolitano è dell'uomo saggio e che guarda in prospettiva. Quello ha fatto dal leader del Popolo delle Libertà era quello di un bendicante che per salvare se stesso cercava l'inciucio. Ripeto, queste dovrebbero essere valutazioni, come dire, serene, al di là delle antipatie, dell'ostilità nei riguardi dell'uomo di Arcore, ma sono le stesse parole ripetute ieri, con un aggravante da parte del Presidente della Repubblica che ha nettamente minacciato di trarne le conseguenze qualora qualcuno oggi presente nei partiti di centrodestra o di centrosinistra dovesse optare o dovesse pensare in modo diverso rispetto a quelle che saranno le sue scelte, che farà nel giro di pochissime ore. Può darsi anche entro la giornata di oggi, al massimo domani darà l'incarico per formare il nuovo governo. Insomma il Partito Democratico per la ottusità di voler dire sempre e soltanto no, invocando e cercando il Movimento 5 Stelle, ha fatto perdere 50 giorni, 55 giorni dalle elezioni e ha perso un intero gruppo dirigente che si è delegittimato, perché a tutto ciò a cui ha detto no sino all'altro ieri, fino allo scorso weekend, oggi dovrà dire sì se si vuole governare questo Paese. Un po' come il bambino che non vuole mangiare e la mamma e il papà bonariamente minaccia. Se non mangi la pappa, niente cartoni animati, allora preoccupato di non guardare la televisione, la mangia la pappa, che poi fa bene allo stesso bambino. Questo è successo con l'atteggiamento inutile del Partito Democratico in queste settimane. Ma attenzione che Napolitano fa giustamente una riflessione e dice che le grandi coalizioni non sono segno di regressione, sì perché poi si invocano ad esempio tutte le altre democrazie, ma di fatto ovunque, lì dove non c'erano i numeri certi per dare risposte ai cittadini, hanno fatto le grandi coalizioni, partendo proprio dalla Germania, dal Paese europeo più popolare e più forte in questo momento. Ma quello che è successo lo scorso weekend con le fratture, con le invocazioni, con le imprecazioni contro un'ipotesi di Presidente della Repubblica targato maggioranza trasversale, ossia PD, PDL, io ritenevo che potessero essere un segnale agli elettori che votavano per esempio in Friuli, per cui il grande inciucio tanto denunciato, tanto contestato porterà a una stravittoria del Movimento 5 Stelle perché nell'opinione pubblica si percepiva l'inadeguatezza della capacità dei due maggiori partiti di trovare soluzioni giuste ed opportune. Invece in Friuli, votando proprio nella giornata e nel weekend in cui si è poi consumato sabato l'elezione del Presidente della Repubblica, Beppe Grillo perde voti e vince il centrosinistra di 2 mila voti in più rispetto al popolo delle libertà, ma il 50% non si reca alle urne, per cui PD e PDL si dividono le torte a secondo delle piccole differenze numeriche, ma Grillo non riesce più ad attrarre, almeno ciò è successo in Friuli, Venezia Giulia, quindi a caldo del patos antipartiti tradizionali, ma non riesce più ad attrarre il cittadino che forse invece di votare PD, invece di votare il PDL, invece di andare a scegliere il popolo delle libertà o il popolo dei grillini, preferisce, in Friuli non era facile, andarsene a mare. Questo è il dramma della politica quando non è matura a fare analisi, a trovare soluzioni e a prendere decisioni. A domani! Grazie! 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 Grazie!